Con Salvo di Pasqua mi avvicinò in strada all'esterno del comune e mi disse se voti l'accapo per te ci sono 5.000 euro. Lo dice nella corte di Assise di Foggia Concetta Soragnese, consigliere comunale all'epoca dei fatti ed oggi. Soragnese precisa che l'offerta fu ufficializzata dal collega di Pasqua in riferimento all'accapo del Consiglio Comunale sull'affare Tonti, imprenditore coinvolto nel famoso giro di tangenti. Soragnese ha risposto EPM Roberta Brai e Enrico Infante alla ripresa del processo che vede l'ex sindaco del capologo Dauno Franco Landella, la moglie Daniela Di Donne ed altri 11 accusati tra l'altro di corruzione e peculato. Per queste accuse Landella fu arrestato nel maggio del 2021 dopo essersi dimesso. Il Consiglio Comunale fu poi sciolto per infiltrazioni mafiose e commissariato per due anni. Era un accapo particolare perché se ne parlava da tempo, ha aggiunto Soragnese e a Di Pasqua dissi assolutamente no all'offerta. Il processo riprenderà a novembre.